Io vengo accusata di essere una donna che vuole tenere le donne ai margini della società, cioè ricordo ancora di essere stata accusata nel giorno in cui in Parlamento chiedevo la fiducia come prima donna Presidente del Consiglio Italiano di volere le donne un passo dietro agli uomini, cioè adesso con tutto il rispetto non mi sembra che nella mia vita ho dimostrato di volere le donne un passo dietro agli uomini, quindi bisogna capire a che cosa ci si riferisce. Poi perché si dice ad esempio di me che io vorrei le donne un passo dietro agli uomini, torniamo al ragionamento di prima perché io sono una persona che difende il valore della famiglia e difende il valore e la necessità diciamo di incentivare la natalità e chi dice che famiglia, natalità e lavoro per una donna non possono stare insieme, di conseguenza mi accusa di volere le donne a casa per fare i figli. Ma come io già le ho detto, contesto l'assunto, io ritengo che non si possa vendere come libertà quella che come libertà è stata venduta e cioè liberiamo le donne dai figli per consentire loro di lavorare. Io penso che se tu vuoi mettere al mondo un bambino non devi per questo rinunciare a un lavoro.